La conferenza regionale delle donne non vuole rappresentare un ornamento nella struttura burocratica del partito, mero adempimento statutario finalizzato a riempire caselle. In estrema sintesi il contenuto del documento della conferenza regionale delle donne del Partito Democratico della Puglia, a cui ha partecipato a Bari la deputata del PD Paola Concia e che lunedì sarà discusso sempre a Bari alla presenza del segretario regionale del partito Sergio Blasi e del presidente Michele Emiliano. In poche parole le donne del PD alzano la voce con i dirigenti del loro partito perché ritengono ingiusto essere utilizzate solo per riempire le caselle delle liste elettorali e non solo. Noi crediamo che nel partito paritario le donne possano contribuire a realizzare gli obiettivi che il PD si è dato per migliorare la società italiana. In questa prospettiva le donne possono mettere a disposizione energie, concretezza, conoscenze, competenza e consenso. La conferenza regionale e le conferenze provinciali è scritto nero su bianco nel documento che sarà presentato ufficialmente lunedì dovranno essere strutture agili e partecipate, capace di mettersi in rete con le forze attive che si muovono nella società, interpretandone bisogni e individuando strumenti adeguati per creare migliori condizioni di vita dei cittadini e delle cittadine. Un progetto politico per cambiare la società. Intanto anche in Puglia è stato recepito l'appello alle donne a partecipare ad una giornata nazionale di mobilitazione in difesa della dignità delle donne e per invocare a gran voce le dimissioni del presidente del Consiglio Berlusconi. A Bari la manifestazione partirà domani alle 10.30 da Piazza Libertà con un corteo che si concluderà in Piazza Ferrarese. La parola d'ordine del comitato organizzatore è, se non ora, quando ad indicare che è tempo di ribellarsi dallo svilimento pubblico della figura femminile che viene consumato ogni giorno nelle televisioni e sui giornali. Per il presidente della Giunta regionale pugliese, Nichi Vendola, non c'è cambiamento possibile in Italia che non parta dalla libertà e dalla dignità delle donne.